Un patto da 9 milioni di euro per la salute, l'accordo tra regione CGL Cislewil relativo al personale sanitario toscano, quindi infermieri, OSS e tecnici, è stato siglato questa mattina. Presenti anche i direttori generali delle aziende toscane. Gli obiettivi di questo accordo sono migliorare le condizioni di lavoro dei sanitari e abbattere le liste di attesa. La sanità è fatta principalmente dagli operatori sanitari. Veniamo da anni in cui troppo si è compresso il lavoro, ma anche gli istituti normali dei riconoscimenti economici. Per dieci anni non ci sono stati contratti. Riprendere rapporti, ricostruire un dialogo con le rappresentanze, anche sindacali, del mondo del lavoro in sanità è fondamentale perché poi i servizi siano erogati meglio ai cittadini. Sono loro che fanno la sanità. Questo patto segue di una settimana l'accordo che la regione ha stipulato con la dirigenza medica, finanziato con oltre 6 milioni per il riequilibrio dei fondi contrattuali. Dei 9 milioni odierni la regione finanzia il patto con 6 milioni. Gli altri tre servono per innalzare il budget delle aziende. Budget destinato a finanziare progetti per il personale e migliorare i servizi. In questo modo però noi andremo a migliorare le retribuzioni delle persone che lavorano o che lavoreranno nel comparto del sistema sanitario. In questo modo acquisiremo anche prestazioni in più e garantiamo sicuramente altre due cose, cioè la completa copertura del turnover per chi andrà in pensione o per chi andrà via e le stabilizzazioni che la legge Madia consente di fare. Riguardo alle stabilizzazioni dei lavoratori, Saccardi ha chiarito che da 2016 a fine 2019 saranno state stabilizzate circa 1000 persone. Grazie.